Allora, anzitutto è già stato detto che sono 24 canti. Perché sono 24 canti? Uno si potrebbe chiedere. Perché 24 e non 22, per esempio, o 20, o 30, eccetera. Beh, la cosa interessante, perché i greci, che erano questi grandi letterati, ovviamente non c'era solo Mera, ce ne sono tanti altri che sono venuti dopo, grandi filosofi, non erano poi quei grandi aritmetici, erano i grandi matematici anche, grandi geometri, Euclide, per esempio, e così via. Ma non erano questi grandi aritmetici, non sapevano scrivere i numeri, non avevano nemmeno delle cifre, a parte lo zero, che ovviamente quello poi non ce l'aveva nessuno, eccetera gli indiani molti secoli dopo, in realtà 1500 anni dopo Omero, pensate, e comunque 7-800 anni dopo Euclide, non avevano le cifre nemmeno per uno, due, tre, eccetera, fino a nove. E allora come facevano a scrivere i numeri? Usavano le lettere dell'alfabeto. Perché? Ebbè, agli inizi i numeri si indicavano semplicemente in maniera molto convenzionale, dipendeva da dove si era. I numeri in genere sono stati identificati con le parti del nostro corpo, quindi era abbastanza tipico dire, per esempio, numero uno, chiamarlo pollice, per esempio, numero due, chiamarlo indice, non medio, e così via. E poi continuare, ci sono parti del nostro corpo, però è un po' convenzionale partire da una mano, dalle dita e non invece dalle parti, ad esempio, della nostra testa e così via. Quindi per molti secoli, per millenni in realtà, i popoli diversi, in particolare i popoli del Mediterraneo, avevano ciascuno un modo diverso di identificare i numeri, di chiamarli, di nominarli attraverso parole. Ma ci fu un momento, molti secoli prima di Omero, circa cinque secoli, diciamo, nel 1500 prima della nostra era, quando i fenici, in realtà cartaginesi, poi no, così, incominciarono a scoprire quello che poi divenne l'alfabeto, la scrittura. Identificarono una ventina di simboli, nell'alfabeto fenicio erano 22 di questi simboli, e l'alfabeto praticamente invase l'intero Mediterraneo perché era una di quelle tecnologie, oggi noi non ce ne accorgiamo, ce le insegnano fin dall'elementare, anche prima ormai, quindi lo prendiamo così, è scontato per noi. Ma è stata una delle grandi tecnologie che hanno cambiato la storia della civiltà e la storia soprattutto della cultura. Allora ciascun popolo si impossessò di questa nuova tecnologia, che è la tecnologia dell'alfabeto, e però lo adattò ovviamente alla sua lingua, perché varie lingue avevano suoni differenti, non tutti erano uguali, eccetera. I greci lo adattarono alla propria lingua, la lingua greca antica, e avevano bisogno di 24 simboli per l'alfabeto greco. E allora usarono ad un certo punto questi simboli come nomi per i numeri e così fecero tutti gli altri popoli del Mediterraneo. Ormai l'alfabeto era diventato quasi universale, perlomeno nell'universo ristretto del Mediterraneo, e poiché l'alfabeto era universale si poteva usare per identificare i numeri che anch'essi erano in qualche modo universali. E allora le 24 lettere dell'alfabeto greco stavano a indicare i numeri da 0, da 1, perdono, questo è il matematico che ha un inconscio naturalmente, dopo Freud, da 1 fino a 24, comunque se volete da 0 a 23 non cambia molto, sono 24 numeri, e quindi il primo canto si chiamava canto alfa, poi beta, poi gamma e così via.